Sofia Stoianov, Vida, Tato Pinti, Jessica Emiliana e Gratto per vincere. Ciao a tutti e bentornati sul canale, ma bentornati su un nuovo video dei grattini con Delica. Quest'oggi dedichiamo il primo a Sofia Stoianov, scusami non ho trovato il miliardario, sai, in tempo di ferie i tabaccai iniziano ad andare, cioè sono quasi tutti in ferie e chi è aperto i grattini che hanno vanno a ruba. Quindi ho scelto il mamma non mamma, spero che ti piaccia lo stesso. Andiamo a vedere un po' il tuo simbolo bonus. Il fiore. Un fiore. Primo petalo. La matita. La cassetta. La pace. Un cuore. La scarpa. Attenzione, la scarpa. Allegria. La televisione. Lo smile. Attenzione perché solo con cinque cuori si inizia a vincere se troviamo il fiore. Quindi il pantalone, l'arcobaleno, un cuore, siamo a due cuori, per la matematica tre, quattro, cinque, sì dovremmo ancora farcela, tre cuori, la mano col codice qui vicino al cuore, speriamo. Ci mancano due cuori per vincere almeno tre euro, Sofia. Mettiti la mano sul cuore e spera. Niente, la nota. Quindi cuori, quei cuori non possiamo vincere. Vediamo se nell'ultimo simbolo c'è il fiore. Nooo, gli occhiali. Gli occhiali. Quindi, purtroppo Sofia questo biglietto è perdente. Chiedi ancora biglietti anche tu. Magari più avanti troveremo un altro miliardario e te lo porterò. Ora passiamo al tutto per tutto per Vida. Vida è una nuova iscritta del canale. Benvenuta Vida. Cominciamo coi numeri. Un bel 40 col codice. 44, 31, 43 e 38. Vediamo un po'. Il primo numero, 42. Ci siamo andati vicino. 37. 13, c'è il 31 girato. Ultimo numero, 14. Passiamo alla seconda fila. 34. 24. Noi abbiamo 44. Noi abbiamo 44. Ultimo numero, 16. Passiamo alla terza fila. 12. Non c'è. 45. Abbiamo sempre 43, 44 e 40. 32. 32. Abbiamo il 31. Ultimo numero, Vida. 18. Purtroppo il tuo primo biglietto dedicato, Vida, è perdente. Speriamo in un prossimo, eh? Continua anche tu a chiedegli. Ora passiamo a Tato Pinti. Anche tu sei un nuovo iscritto. Benvenuto. Le tue carte. A te non mi hai iscritto quale volevi, io ti ho scelto la scopa. Quindi, 3, 4, 7, 2, 9, 9. Dobbiamo trovare un cavalluccio. Qui si vede già un 5, quindi grattiamolo. 5. Qua si vede già un 2, quindi grattiamolo. 2. Andiamo anti-orario o in senso orario? Andiamo anti-orario. 10. Per poco. Noi ci arriviamo un 9. 4, 3, 7, 2, 9. Asso di spade. 6. Un bel 7 bello. Poi abbiamo un 4. Poi abbiamo un altro 6 di bastoni. Poi abbiamo un 3 di spade. Allegria. Gattiamolo bene. E qui abbiamo un 8. Attenzione, un 8. Ci siamo avvicinati. A noi ci serve un 9. Unasso di coppe. Magari il Sacro Graal. Che non so. E qua ci serve il 9. Magari. Ultima carta. Tato Pinti. Che è... Ha un 4. Peccato, peccato, peccato. Ma veramente peccato. Peccato. Anche il tuo primo grattino dedicato è... Perdente. Mi spiace. Passiamo a un'altra nuova iscritta del canale. Jessica Emiliana. Che ci ha chiesto un turista. Ma non mi è precisato se lo volevi da 2 o da 5. Tanto la 5 non c'era. Come il miliardario. E aveva finiti. I più belli li aveva finiti. Praticamente. Quindi vediamo un po'. Con un turista da 2. Magari porta bene lo stesso. Di solito quando scelgo io. Abbiamo vinto. 45. 27. 21. E il bonus. E il 20. Attenzione. Cambiamo tonalità di voce. Forza ragazzi. Sulle mani. Per questo biglietto. Allora. Vediamo. Primo sdraio. Un turista. Allegria. Secondo. Un bel 30. Non è deciso dal 20. Jessica. 24. 22. C'abbiamo 21. 20. Giusto esce 22. 23. Giustissimo. 31. È. Allegria. 17. È l'ultimo biglietto. L'ultimo numero per te. Jessica. Di questo tuo primo biglietto dedicato. È il. A 29. Per un attimo ho pensato che era il 20. Sono sincero. Sono sincero. Quindi anche questo è perdente. Passiamo all'ultimo. Gratto per vincere. Numeri fortunati. Anche per te. Gratto per vincere. Non c'erano i bigliettoni. In mega. Non c'era. Visto che anche tu sei un nuovo iscritto. Ho scelto di dedicarti lo stesso a un biglietto. E ti ho portato. Un numero di fortunati. Eh. Andiamo col primo numero fortunato. Attenzione. 66.0. Tanto su 5 biglietti 4 perdenti. Giusto per precisare. Però vabbè. 72. 72. Non lo vedo. 67. E c'è. 67. C'è. Il 25. Natale. Il 25. Non c'è. Il 76. Lo vedo. C'è. Lo vedo. Lo vedo. Il 55. C'è. Lo vedo. Lo vedo. Lo vedete. Lo vedo. Il 42. Non lo vedo. Non lo vedo. Non c'è. Non c'è. Il 32. Non lo vedo. Non lo vedo. Non c'è. Il 68, lo vedo, lo vedo, c'è, attenzione che magari porta bene a farlo stupito così, un attimo, attenzione, avanza il 54, non lo vedo, non c'è, bello, 69, lo vedo, bello, c'è, mi piace il 69, poi 75, non lo vedo, non lo vedo, non c'è, 57, non lo vedo, non lo vedo, non c'è, 40, lo vedo, lo vedo, c'è, attenzione, facciamo un aggiornamento rapido dei numeri, per chi si fosse collegato in questo momento, come facevano una volta per radio e telecronache, mancano due numeri e abbiamo due numeri qui, un numero qui, un numero qui, un numero qui, Vediamo, ripartiamo, 51, lo vedo, ma non ci serve, non ci serve, l'ultimo, possiamo sperare nel 22, nel 34, nel 36, signori, attenzione, partiamo a grattare da qua, Signori, signori, eh? Gratto per vincere, al tuo primo grattino ci hai fatto vincere, attenzione, signori, si vince, iscrivetevi al canale perché si vince, si vince, bene, siccome che su 5 ha vinto solo uno, Voi, arrivate, arriviamo a mille iscritti e io vi faccio sapere cosa ho vinto, ciao a tutti e un bacio a tutte Ma no, sto scherzando, era una burla, andiamo a grattare questo, intanto cerchiamo il codice, il codice, come è duro da grattare, ok? Oggi sono in vena, eh? Sono burlone, burlone, però se siete arrivati a questo punto del video, scrivete qui sotto, hashtag numeri fortunati, così, tanto parlo, così, voi scrivetelo, su 5, 1 vincente, capita, eh? Capita! Ho visto anche di peggio, ho visto di peggio, signori, credetemi, ma bando alle ciance, andiamo a grattare questo bel grattino, questo bel premio, eh? Piano piano, eh? C'è uno zero, ce n'è due, eh? Attenzione, due zeri, due zeri, perché c'è scritto un due lì? Sarà un duecento? Dunque, diciamo che, se ci fossero tre euro, sarebbe una bella beffa, possiamo dirlo? È una bella beffa, però, vabbè, accontentiamoci 5 euro, dai, va bene Va bene, va bene, perché, va bene, perché È il primo biglietto chiesto da Gratto per vincere, sono contento che Al primo biglietto, almeno tu che hai chiesto Hai vinto Mi raccomando, è fondamentale Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per rimanere aggiornati sui prossimi video Io vi saluto Da Torino è tutto Buonasera E un bacio a tutte Buonasera Per rimanere aggiornati sui prossimi video